Buonasera, buonasera, bentrovati, nuovo appuntamento con LIDER. Parliamo a LIDER di un argomento che sta a cuore a tante famiglie siciliane, italiane in generale, ma soprattutto ai tanti giovani che guardano con attenzione al proprio futuro, almeno noi ci auguriamo che sia così, guardano insomma a quelle che sono le basi scolastiche, all'università che dovrà arrivare, insomma gettare le basi per far sì che questa nostra terra possa continuare a crescere. Lo facciamo con una dirigente importante, una vera e propria LIDER, lei è il famoso preside che ora è stato potenziato, possiamo dire, in dirigente scolastico dell'ITIS Archimede di Catania, quindi l'Istituto Tecnico Industriale. Noi la ringraziamo per essere con noi. Grazie a voi, grazie a voi per l'invito. E allora, prima si usava di dire cara preside, ora dico cara dirigente scolastica, è cambiato qualcosa? Penso di sì, no? Dal 2000 è cambiato tanto, sì. Qualche responsabilità in più? Assolutamente, il dirigente adesso ha l'autonomia nella gestione delle risorse economiche, umane, professionali. Prima era più un adempimento quando si era preside ed era il cosiddetto primus inter pares, era il più bravo fra i docenti, quindi si dedicava di più all'aspetto educativo, didattico, valutativo. Adesso invece siamo un po' più costretti a stare attenti non solo al reperimento delle risorse, ma anche e soprattutto alla gestione. ultimamente siamo proprio, io dico, insufflati di soldi perché il PNRR è arrivato anche alle scuole e tanta energia, tanta possibilità davvero di determinare il cambiamento, ma c'è anche tanta responsabilità ed è tutta sul dirigente scolastico. Perché a differenza delle altre amministrazioni nella scuola non c'è l'ufficio economato, l'ufficio del personale, l'unico ufficio è, quindi tutte le pratiche, i documenti sono a firma del dirigente, per cui è un unico responsabile di tutte le pratiche. Secondo l'esperienza maturata sul campo era meglio restare a fare i presidi? Sì, assolutamente sì. Per quanto mi riguarda, forse perché non sono proprio giovane in termini professionali e non solo, io ricordo che con nostalgia prima del 2000 il mio lavoro era un po' legato anche alla mia identità professionale, quindi molto centrato sul processo di insegnamento e apprendimento, sulle progettualità educative, sui sistemi di formazione del personale dei ragazzi e molto meno all'aspetto sindacale, all'aspetto contabile, all'aspetto amministrativo. Però si impara, ci si adatta. Ecco, ora io l'ho detto prima, in apertura è una leader nella sua scuola per i risultati che è riuscita a concretizzare nel tempo, perché sono i ragazzi che pendono molto dalle sue labbra, come si suol dire. No, allora, io la ringrazio per essere leader, ma il dirigente, la scuola oggi non è basata sul lavoro di uno, ma di un gruppo di docenti, in generale di tutta la comunità. Il dirigente ha l'onere dell'atto di indirizzo, che tra l'altro siamo obbligati a pubblicare, di orientare un po' le scelte di valorizzare e consolidare l'identità di una scuola. E la nostra identità è più che consolidata grazie al lavoro di alcuni docenti in particolare. immagino, insomma, che lei si riferisca, per quanto riguarda la leadership, alla robotica educativa. Sì, io parlo di leader perché ritengo che il gruppo funziona se a capo del gruppo c'è il leader che lo fa funzionare. È questo il contesto e devo dire, dall'affetto dimostrato, io vi ho seguito nell'ultima vostra grande rappresentazione che avete fatto all'interno dell'ST Microelectronics, è stata eccezionale. Vedevo proprio l'affetto da parte non solo dei docenti, quindi coloro che si siedono al tavolo per poter discutere delle dinamiche, ma gli studenti erano molto partecipi, molto favorevolmente colpiti ecco da questa situazione. Sì, i ragazzi sono i primi fautori, sostenitori di questo percorso che è davvero una occasione di quelli che sono chiamati compiti di realtà, cioè un'interdisciplinarità fra meccatronica, elettronica e informatica, che sono i nostri tre indirizzi, che mettono i ragazzi nella condizione di realizzare in maniera autoprodotta i robot che hanno anche insomma un'apparenza, una parvenza umanoide, ma nella realtà i principi sono anche quelli regati ai bracci robotici che si trovano nelle industrie. E loro hanno in più in questa esperienza della robotica educativa e per questa categoria che è molto creativa, ecco appunto la possibilità, l'opportunità di mettere dentro le loro attitudini, le loro competenze, il saper cosa fare, quando farlo, rispetto a quello che sanno e a quello che apprendono, perché la loro idea progettuale per essere messa in pratica a volte ha bisogno di degli upgrade, di implementazioni che i docenti devo dire riescono sempre accompagnandoli a soddisfare. Quindi c'è uno scambio, non dico alla pari, asimmetrico, che però porta i ragazzi a vivere come protagonisti, perché loro materialmente creano questi robot sul, a volte consigli, indicazioni dei docenti, però la creazione è tutta loro, perché il docente non mette mano, almeno da noi, noi non compriamo i famosi Nauro, i robot Nau, e li facciamo tutti costruire da ragazzi, dalla stampante 3D all'acquisto dei sensori, dei motori per il movimento, quindi davvero sono, per loro, lavorano fino a mezzanotte, telefonano ai docenti per chiedere al professore S, ho fatto così, mandano i video, si scambiano le informazioni, ed è una dimensione che lavora anche sull'aspetto fondamentale, che è quello della relazione interpersonale, dove il docente diventa un mentore, diventa un maestro di vita, un modello per loro, e questo è un successo che va oltre il campionato, la competizione, è un successo per questi ragazzi che rimangono archimedei nell'anima, nel cuore, e poi tornano e ci raccontano. Ecco, perché mi ha colpito molto l'esperienza che ho vissuto con voi, seguendo un po' quella che è stata la competizione, c'era proprio un tifo da stadio, c'era una partecipazione incredibile, un'emozione che si, che trasudava in tutti, c'era proprio un'agitazione, perché c'era una, veramente una reale partecipazione, questi sono i primi step di una vita futura, cioè, vedevi questi ragazzi che erano tanto presi dal progetto, che si estraneavano quasi, erano proprio avulsi da questo, è una cosa che mi ha colpito tantissimo. Si, riescono a dedicare molte più ore a queste attività, magari che non allo studio, poi di solito sono anche molto bravi a scuola, devo dire, però quello che è bello è che attraverso questi progetti, questo è uno dei tanti che si fanno nelle scuole, nel nostro caso è il progetto identitario della scuola, imparano anche il cosiddetto team working, che oggi è trasversale a tutte le attività professionali o di studio, da soli non si fa più niente, tutte le attività devono essere realizzate in una logica collaborativa, con ruoli e capacità, competenze diverse e in questo caso loro le sperimentano e quindi la ricerca e la sperimentazione da noi diventa un must, perché non possono arrivare ai risultati senza lavorare in team, in una logica di ricerca, di sperimentazione e anche di sviluppo, perché ora per esempio siamo stati selezionati al nazionale per andare agli europei, agli europei non puoi presentare lo stesso progetto del locale o del nazionale, quindi c'è l'upgrade, c'è il miglioramento, hanno infatti costruito un altro robot e questo è uno stimolo che fa capire quanto per i ragazzi a volte più del voto è importante la soddisfazione nello svolgimento dell'attività e questo lo potrebbero fare tutti i docenti se non si limitassero all'interrogazione e al compito in classe. I compiti in realtà servono a questo, a dare il piacere ai ragazzi a svolgere l'attività e la soddisfazione nel compimento e alla conclusione dell'attività è molto più gratificante del voto in sé, che comunque insomma non guasta ovviamente. Il voto chiaramente non guasta, però la cosa fondamentale è che si creano quelle figure per il futuro che saranno fondamentali, necessarie e partono da una base di preparazione che è fantastica, se voi immaginate che il ragazzo chiama il professore a mezzanotte, sembra quasi un film, un racconto fiabesco, nel senso che il professore lì che è a casa da solo, sì, dimmi che come ti posso aiutare, sembrerebbe quasi la storia di un film, ma è la realtà effettivamente. È realtà, è realtà, io tra l'altro l'ho visto, sono testimone delle chat, ma anche dei meet, insomma si incontrano per dialogare e il bello dei docenti che seguono questi ragazzi è che non si tirano mai indietro, quindi la dimensione umana supera quella delle diciotto ore della cattedra, perché il tempo che questi docenti, non tutti, e questi docenti dedicano ai ragazzi non è retribuito, non è ricompensato con riposi o ferie in più, è un dare oblativo, un po' come fanno i genitori con i figli, perché mantenendo ovviamente un ruolo affettivo non da madre e da padre, sempre da docente, però la dedizione e il tempo e l'abnegazione che hanno nei confronti di questi ragazzi sicuramente fa la differenza anche per il coinvolgimento dei ragazzi, per la motivazione a impegnarsi anche per loro scegliere di non andare magari a uscire con i compagni, con gli amici, ma a rimanere con i compagni di lavoro per andare avanti nel progetto di robotica, perché anche loro fanno tanti sacrifici. Quanto conta la passione di questi docenti che mettono a disposizione dei ragazzi? Perché i ragazzi sono dei percettori, riescono a capire al volo se il docente lo fa in maniera sbogliata oppure superficiale oppure parafrasando le famose canzoni del passato rivenditi, compagno di scuola, mi viene in mente anche quel momento. Allora, i ragazzi sono i migliori giudici degli adulti e di solito non sbagliano, non sbagliano mai. Dunque, se per un attimo le norme prevedessero una valutazione anche degli alunni nei confronti dei docenti, ci sarebbero tante belle sorprese, perché quella che io chiamo passione, che è proprio il piacere gratuito di dare a questi ragazzi, sicuramente ha una restituzione che vederli crescere, vederli sani, vederli fuori da alcune dinamiche, diciamo, pesanti per alcuni ragazzi che invece poi escono fuori dai circuiti non solo scolastici. E questa passione purtroppo non è monetizzabile, non è trasferibile e quindi a volte, insomma, si è in pochi ad avere questa, nelle scuole, ad avere tutti, tanti docenti, non sono tanti, non sono, e magari anche giusto così, voglio dire, non si richiede sempre e solo la passione al docente, perché non è una missione, non lo è, questo lo dobbiamo dire, è un lavoro, però se lo fai bene, hai una restituzione che non è necessariamente le ferie o i soldi. Per alcuni questa restituzione fa la differenza e grazie a questi docenti, e non solo i docenti, ci sono anche figure del personale ATA che funzionano alla stessa maniera e che sono fondamentali tanto quanto i docenti, e adesso all'Archimedia ne abbiamo, sinceramente rappresentano il concetto di comunità che si autodetermina per migliorare. Ecco, quali sono i problemi che può vivere una scuola oggi? Si è parlato negli ultimi tempi di carenza di personale delle famose classi pollaio sovraffollate, insomma, del fatto che bisogna quasi come un'azienda cercare di monetizzare, abbattere costi, insomma, sono tutte cose che vanno in quella direzione che dicevamo prima. Allora, io devo dire con onestà che ci sono delle discresie, delle contraddizioni nel nostro sistema scolastico, perché da un lato si parla e si investe tanto sui concetti della individualizzazione e personalizzazione dei percorsi formativi, ora gli ultimi sono l'iporfolio, l'orientamento, ma dall'altro lato il numero degli studenti per classe non è cambiato e non è praticabile con gruppi di alunni in una classe che non possono mai essere meno di 25 nelle prime e nelle terze e che quindi mettono di fatto in discussione, in difficoltà le scuole per realizzare ciò che la norma prevede e quindi la contraddizione sta nel pensare dei progetti sani, vincenti, bellissimi, in essenza però degli strumenti. Un altro strumento, oltre a quello delle famose classi pollaio, che può sembrare un modo sindacale per far entrare più gente nella scuola, non è così, è l'attenzione alla persona che sta ritornando finalmente in primo piano, è la formazione dei docenti. La legge tanto odiata della buona scuola, la 107 del 2015, prevedeva la formazione obbligatoria ed aveva bisogno di decreti applicativi che la mettessero, che traducessero questa obbligatorietà in termini di numero di ore, in termini di premialità o penalità, insomma, e questi non ci sono, non ci sono stati e non credo che ci saranno. Ed è un altro inghippo, diciamo, un altro strumento che viene meno per l'applicazione della norma che invece chiede giustamente individualizzazioni e personalizzazioni. Questo è molto importante sottolinearlo, anche se in un contesto così molto ampio si dovrebbe anche parlare di sicurezza, sappiamo che sono successe tantissime cose all'interno delle strutture scolastiche, purtroppo ci sono somme che vengono distratte verso altri lidi, quando si dovrebbe pensare soprattutto e fondamentalmente a quella che è la sicurezza nelle scuole, ci sono anche scuole che sono ormai vetuste, che hanno dei problemi strutturali e questo pesa sulle spalle anche dello studente, perché se uno studente protesta perché magari non sono accesi i termosifoni o perché c'è la luce bassa o che sono i bagni, insomma, ci sono tante altre cose e diventa veramente un problema per i dirigenti scolastici. Lo so, diventa un problema, è un problema perché anche lì la responsabilità e l'interlocutore unico che hanno famiglie, docenti e studenti è il dirigente. Il problema è che tutte le scuole sono di, come competenza manutentiva, di pertinenza del comune o della città metropolitana secondo me, e a loro volta con effetto domino pure loro hanno problemi economici, per cui ci si arrangia, la verità è che ci si arrangia, si mettono le pezze lì dove si può, nel senso che se ci sono delle situazioni evidenti di pericolo si chiudono queste zone, si transennano in attesa di tempi migliori, però per esempio a me è capitato di aver dovuto chiudere un intero settore perché il tetto era pericolante, hanno iniziato i lavori ma non li hanno completati, per cui a un certo punto abbiamo dovuto, perché il numero delle aule che veniva meno per noi era fondamentale, abbiamo dovuto mettere mano noi al portafoglio e anticipare le somme, siamo in attesa di una restituzione che non credo ci sarà. Questo è praticamente un luogo comune, dobbiamo dire che succede un po' dappertutto e bisogna stare attenti perché noi non possiamo sempre arrivare a trovare, diciamo, a provare a risolvere il problema quando ormai si è arrivati allo scatafascio, perché questo è di fatto che accade. Certo, una scuola che si spende affinché si possano trovare alternative valide per far continuare il progetto scolastico educativo è necessario e fondamentale, però bisogna fare anche i conti e con i conti che quindi portano poi a delle defezioni, delle mancanze e questo perché il governo come detto prima magari dovrebbe forse attenzionare meglio perché tutta la buona volontà dei dirigenti della scuola per avere risultati e poi vengono compromessi da agenti patogeni esterni, diventa un problema. Devo dire che il Ministero adesso con i finanziamenti del PNRR ha previsto anche dei fondi per l'edilizia scolastica, ma non manutentiva per l'edilizia ex novo, quindi ci sono dei tempi di realizzazione ma anche una quantità di costruzioni nuove che non può compensare tutte le precedenti, cioè lei deve considerare che molte scuole si trovano in, come nel nostro caso, l'Archimede è in un edificio con il vincolo della soprintendenza e quindi qualunque azione, intervento deve essere autorizzato alla soprintendenza e non è facile l'aspetto manutentivo. Altri sono alloggiati in ex appartamenti, in ex bigliette, il Comune paga anche tanti soldi per questi affitti. Insomma il problema dell'edilizia c'è effettivamente e tra l'altro consideriamo che tutte le scuole e questa edilizia ovviamente non può intervenire su una città che è già definita, quindi le nuove scuole dovrebbero trovare anche dei territori. Il problema è un regolatore nuovo, bisogna aspettare che la bacchetta magica dopo anni e anni possa risolvere miracolosamente il problema. Allora io voglio fare un'ultima considerazione che è di carattere tra virgolette negativo perché vorrei anche toccare un attimo la dispersione scolastica e che tipo di soluzione si dovrebbe adottare in base all'esperienza, che tipo di consiglio si potrebbe dare per evitare questa dispersione assurda, incomprensibile, inconcepibile potremmo dire. E poi parleremo un po' di positività. Allora sì, il discorso della dispersione soprattutto nel mezzogiorno ha dei numeri che superano la media nazionale ed è una dispersione in termini proprio di abbandono, di evasione scolastica e anche, e che si chiama esplicita, dispersione come in successo scolastico, quella implicita. Il PNRR... Le responsabilità spesso dove sono? Allora guardi... Chi se le deve in primis assumere queste responsabilità? Allora la responsabilità, anche la Costituzione lo dice, i primi responsabili dell'educazione, della formazione dei giovani sono i genitori e la famiglia. La questione è che nessuno sceglie di non fare bene il genitore, di non fare bene il padre o la madre. Evidentemente il disagio è anche all'interno delle famiglie. Il Covid ha dilaniato, devastato la dimensione economica, per cui se io devo pensare a far mangiare i miei figli e ho bisogno di lavorare, è logico che ho delle priorità e magari il registro elettronico non lo vado a leggere continuamente. Quindi io non mi sento di colpevolizzare le famiglie. Certo però che mettere al mondo dei figli significa anche avere questa responsabilità, quindi cercare, quantomeno nonostante tutto, di interagire con la scuola. Noi abbiamo gli strumenti che però sono sempre punitivi, cioè è la prevenzione quella che non riusciamo bene a fare. Sul monitoraggio, sulla segnalazione, noi abbiamo una grande collaborazione dei servizi sociali, una grande collaborazione del Tribunale per i minorenni, ma parliamo di casi estremi. Quando si arriva a fare questa segnalazione vuol dire che si è superato un totto numero di ore di frequenza, per cui là c'è già una criticità che rientra nel contesto. La questione è la prevenzione, la questione che riguarda la scuola e che riguarda noi come protagonisti. Quando riguarda la scuola, lì viene, si parla di capacità di coinvolgimento dei ragazzi e c'è il momento in cui il docente deve smettere di spiegare e deve organizzare delle attività che possano essere quanto più seduttive per i ragazzi, per tenerli a scuola e farli rimanere. E non è essere buoni o fare o giocare, significa che io devo guardare negli occhi un ragazzo e leggere empaticamente il disagio, la sofferenza, alcuni ragazzi vengono e dormono. Ecco, quando tu dormi è perché non hai dormito la notte, e quelli sono i casi classici della ludopodia, oppure perché sei andato a lavorare, magari hai aiutato il padre, oppure perché ti annoi mortalmente. Ti annoi quando è troppo difficile quello che ti viene spiegato. Allora, ciò che noi studiamo, la verifica iniziale, andare a prendere i ragazzi lì dove si trovano in termini cognitivi, significa che tu, e oggi lo si dice sempre, non hai un programma da seguire, tu hai delle competenze da perseguire, con tutti gli strumenti e le responsabilità professionali, cioè scegli di saltare alcuni argomenti, di semplificarli, di non trattarli, di fare proprio una selezione, prendendotene la responsabilità, perché sai che quei ragazzi, cioè noi abbiamo fatto una, che i ragazzi non ce la fanno, noi abbiamo fatto un'indagine per individuare i cosiddetti fragili, ma abbiamo chiesto proprio se sapevano, sapevano svolgere le strumentalità di base, cioè il calcolo mentale, l'addizione, la sottrazione, parliamo di primo anno di scuola superiore, per cui, e la colpa non è delle scuole medie, la colpa è che non riusciamo ad agganciare i ragazzi, allora, io le devo dire che ultimamente sono andato a fare un percorso catecumenale, e insieme ero un gruppo di adulti, c'era un ragazzo che ha dichiarato apertamente, un ragazzo di 16 anni, che non sapeva leggere. Allucinante, però, allucinante. Però se c'è, se esiste, è inutile che io mi metta a fare la lezione, la letteratura, e questa è la vera difficoltà del docente, ed è la vera bravura, il docente bravo è quello che non riesce ad agganciare tutti, ed è difficile. Io non sono tuo padre, però ti posso aiutare. Ti devo aiutare. Ti devo aiutare. Ed è difficile, però, sinceramente, non mi sento neanche di penalizzarli. Abbiamo, diciamo, toccato vari aspetti, molti temi importanti, che ci auguriamo possano avere acceso in voi che ci seguite, so che siete veramente in tanti in giro per l'Italia, quella lampadina dell'attenzione, perché è fondamentale pensare che tutti i ragazzi, i nostri giovani, sono parte integrante delle nostre vite. Non lo dobbiamo mai dimenticare. Io voglio ringraziare Daniela Vetri, che è un dirigente eccezionale, è una leader, l'avevo detto in apertura, e sono contento per il contributo che sicuramente ha dato, anche in questa mezz'ora di chiacchierata, che può essere sicuramente significativa. Io però, voglio dire, siccome siamo all'Archimede, i risultati sono stati soddisfacenti, perché tanti si iscrivono, continuano a iscrivere all'Archimede, quindi voglio dire, le voci, la eco di una positività va molto spedita, e quindi che tipo di messaggio possiamo dare ai giovani, che per esempio ora siamo praticamente ormai quasi a fine anno, quindi si aspetta di avere le nuove leve che arrivino. Le nuove leve già ci sono iscritte, sono tante, devo dire, noi abbiamo, ogni anno arriviamo quasi ai 300 ragazzi, e sono tanti in un istituto tecnico. Io di questo sono orgogliosa, e loro sanno che, io parlo ovviamente non solo tanto dell'Archimede, non voglio fare, non mi voglio autoincensare, però l'istituto tecnico in generale dà tante possibilità, perché ti puoi iscrivere all'università, e di solito ovviamente vanno nelle università STEM, cioè Ingegneria, Matematica e Fisica, quelle legate al nostro piano di studio. Puoi andare a lavorare, perché comunque hai la possibilità di avere delle competenze se sei volenteroso, se sei, diciamo, senza bisogno di avere tutti i dieci, cioè proprio se ti piace il lavoro che tu pensi di fare con la competenza in elettronica, informatica e meccanica, e oppure hai un'altra opzione ultimamente, che è quella di frequentare gli ITS. Gli studi tecnici superiori sono una, come dire, rimodulazione della laurea triennale. Durano due anni, hanno, danno delle competenze, offrono delle competenze e delle opportunità strettamente legate al tessuto produttivo, perché sono collegati alle aziende, e quindi in due anni hai la possibilità di imparare delle professioni e le aziende ti possono chiamare perché sono strettamente legate all'ITS Academy. E c'è molto bisogno di grandi cervelli, come si suol dire. Sì, ma noi ne abbiamo tanti, io devo dire, i nostri ragazzi hanno un'intelligenza. Abbiamo visto dalla robotica, per esempio, i grandi premi che sono stati guadagnati sul campo, ultimamente, come detto, siamo testimoni presso il ST Microelectronics, però ci sono altri, diciamo, obiettivi che i ragazzi caparbiamente vogliono raggiungere. Assolutamente sì. Ora, io devo dire che noi abbiamo un bellissimo progetto consolidato, ormai sono quasi dieci anni, che è l'Archimede Lab, è un concorso di prototipazione dove i ragazzi mettono in pratica tutto ciò che hanno imparato. Dalla ideazione di un progetto che può avere una funzione sociale, una funzione ludica, una funzione utilitaria, insomma, con delle declinazioni spiccatamente informatiche, spiccatamente elettroniche, e da lì, siccome la giuria, perché è un concorso, è fatta da rappresentanti delle aziende, delle università, vengono fuori delle capacità da parte dei nostri ragazzi che portano poi sempre l'azienda a bussare e a chiedere che ne pensa se gli facciamo un colloquio oppure, ovviamente, le università. E quindi la scuola, l'Archimede soprattutto, da questo punto di vista, punta tanto nella proiezione e nella logica del progetto di vita. Allora, io la vedo molto come preside, ideologicamente, col cuore, insomma, come si spende per la sua scuola, quindi fa anche la dirigente scuola, però io la definisco preside perché questa è la grande voglia e partecipazione, l'amore che si ha per questa professione. Io chiaramente sono arrivato alla fine, ringrazio la professoressa Vetri per essere stata con noi, la discussione è stata preziosa, importante, ritengo anche per voi che ci seguite fondamentale. Io, come sempre, vi ringrazio per l'attenzione. Continuate a scrivere a redazione chiocciola spazionotizia.it, date il vostro parere, scrivete le vostre motivazioni che vi portano a vederci, perché noi siamo anche contenti per eventuali vostre critiche. Abbiamo anche un numero telefonico che mettiamo a vostra disposizione, che è il 3792 24 24 20. Grazie e arrivederci. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.